ameria radio presenta la musica di ameria radio a cura di maria teresa ferrante buonasera e benvenuti alla musica di ameria radio questa sera ascolteremo composizione di giuseppe de maio è stato un compositore italiano della scuola napoletana e padre del compositore gianfrancesco de maio ricordiamo che giuseppe de maio nasce a napoli nel 1697 nel 1706 a nove anni fu ammesso al conservatorio della pietà dei turchini dove studiò con nicola fago e andrea basso nel 1718 terminò gli studi e nel 1725 debuttò come operista al teatro dei fiorentini con l'opera buffa lo finto iaccheo il 9 maggio del 1736 fu nominato organista soprannumerario della cappella reale napoletana e nell'agosto dell'anno successivo fu elevato a provvice maestro nel 1744 morì il maestro della cappella reale stiamo parlando di leonardo leo e quindi fu indetto un concorso per l'assegnazione della prestigiosissima carica a questa competizione parteciparono oltre a de maio anche il suo vecchio maestro nicola fago e poi nicola porpora e francesco dorante la commissione era composta da joan adolf asse nicolò iommelli giacomo antonio perti e giovanni battista costanzi la gara tuttavia fu disputata solo fra tre concorrenti dato che purtroppo nicola fago morì il giorno prima della competizione asse era l'unico che fu favorevole a maio ma grazie all'influenza della regina maria amalia quest'ultimo riuscì ad ottenere l'ambito posto che mantenne quasi sino alla morte durante l'esercizio di questo incarico tralasciò l'ambiente teatrale per dedicarsi principalmente alla composizione di musica sacra poche e assai convenzionali sono le sue opere teatrali rimasteci che sono deboli sia per l'accompagnamento che per l'invenzione melodica barney viceversa dimostrò molto entusiasmo per le sue composizioni sacre da lui ascoltate nella chiesa napoletana di donna regina di queste però ci sono rimasti ancora più scarsi esempi questa sera l'ascolto non riguarda propriamente la musica sagra ma la musica strumentale e alcune aree dall'opera lo finto iacheo ascolteremo il concerto in fa maggiore per violoncello archi e basso continuo nei suoi tre movimenti comodo grave allegro al violoncello giovanni sollima accompagnato dalla cappella dei turchini e diretti da antonio florio proseguiremo con le arie da lo finto iacheo e ascolteremo esattamente quando lo pesce è vivo se crede sta secura lo villano che è una chianca e già che sto bello sole la voce è quella di pinno di vittorio accompagnato dalla cappella della pietà dei turchini e diretti da antonio florio concluderemo con il concerto in sol maggiore per flauto traverso con due violini violetta e basso continuo nei suoi tre movimenti allegro ad agio allegro al flauto carlo ipata accompagnato dall'ensemble auser musici non mi resta che augurarvi buon ascolto con i programmi di ameria radio l'ho 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 A presto. 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 la scura quando passano quando passano va la montagna passano 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 quando passano va la montagna in ah 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 Grazie a tutti. Ma bene, odo lui orna, che sommarà la tua orna, Nuno con sanità, che s'è la magna. Nuno con sanità, che s'è la magna, che s'è la magna, che s'è la magna. Che s'è la magna. . 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.